Ragazzi, nuovi aggiornamenti per WW2K24 in formato rapido, avremo nuove stipulazioni molto interessanti, tra cui match con arbitro speciale, casket match, quindi match con la bara, ambulance match, match con l'ambulanza e poi gauntlet match. Inoltre, nuovi miglioramenti, nuove aggiunte con la GMMod che avrà nuovi GM, nuovi brand e altri contenuti interessanti all'interno della modalità, poi UniverseMod che dovrebbe essere migliorata un pochino con nuove cutscenes e poi altre piccole chicche all'interno della modalità che però al momento non sappiamo con certezza, però dovrebbero esserci dei piccoli miglioramenti interessanti, meglio poco che niente ovviamente. MyRise, la carriera ovviamente super confermata, dovrebbe essere ancora più bella col coinvolgimento di atleti di grosso spessore, poi avremo lo Showcase, ovviamente dedicato ai 40 anni di WrestleMania e dunque tanta tantissima roba. Inoltre, per quanto riguarda le creazioni, oltre ad avere sicuramente tanto nuovo materiale per creare atleti, costumi e compagnia bella, avremo anche la possibilità di creare un arbitro e anche di creare dei cartelloni. Mamma mia, tanta roba ragazzi. Comunque per il momento questi sono gli aggiornamenti, se dovessero essercene altri ovviamente ve lo farò sapere, se non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi perché dal 5 marzo con accesso anticipato solo su questo canale, come dico sempre, troverete tutti i videogameplay completi di tutte le modalità di gioco. A prestissimo ragazzi per nuovi video e nuovi aggiornamenti, ciao! Ciao!